Musica Buon ciao a tutti ragazzi, io sono Maruco e oggi torniamo su The Sims 4 Torniamo come potete vedere a casa dei nostri vecchietti In quello che sarà un episodio un po' particolare, un po' diverso rispetto al solito Quindi cominciamo subito, intanto loro stanno bene E visto che stanno bene io direi che possiamo viaggiare Perché? Perché ovviamente siamo a luglio, estate, c'è caldo, c'è tanto tanto caldo da me Molti di voi sono in vacanza, molti di voi hanno affrontato, stanno affrontando gli esami Ma comunque siamo tutti in vacanza E voglio scordarmi un po' della gestione dei ristoranti, negozi, scuola, lavoro, carriera eccetera E li voglio davvero mandare a divertirsi un'intera giornata Dove? A Granite Falls? No, assolutamente no Ho creato un lotto per l'occasione Quindi ora direi di viaggiare subito Viaggiamo tutti E, beh, possiamo già invitarli Ok, io volevo fare qualcosa con l'intera famiglia greco E quindi io direi che ci siamo già Abbiamo i nostri figli e... perfetto Viaggiamo subito Ok, viaggiamo a Ozzy Springs Che non ha più un parco centrale ma un lotto che ho creato io Un ristorante E ora vi spiegherò meglio come funziona Quindi lo raggiungiamo Ok, siamo arrivati, io direi di stare in pausa un attimo E per questo lotto Intanto hanno tutti il costume Per questo lotto mi sono ispirato un po' alle spiagge In pratica Voglio fare un episodio molto, molto estivo Vi faccio vedere un po' come ho strutturato il lotto In pratica c'è tutta questa staccionata Che ricorda pericolosamente il logo di Colorado Comunque ci sono i lampioni, ci sono i cespulli E ci sono i cactus Questa è tutta tutta la staccionata Che percorre tutto il lotto Ora Mari facciamo così Qua vedete ci sono anche delle insegne eccetera Qua ci sono altre cose Ora ve le faccio vedere meglio E qua partiamo dall'ingresso All'ingresso abbiamo in pratica un fuoco Quindi faremo dei falò Ci divertiremo anche davanti al falò Qua invece c'è una passerella che ci porta in quello Che è appunto un chiosco Per fare questo mi sono davvero ispirato al chiosco Che si trova nella spiaggia Quindi la forma è quella Qua ho messo questa staccionata Vedo non vedo E sotto il chiosco in pratica si può mangiare C'è un vero e proprio ristorante Non è un ristorante di lusso Ma anzi si vendono panini, patatine Insomma cose da spiaggia in pratica Qua c'è la postazione del direttore di Sara Ora sto qua giù Ho aggiunto dei dettagli Ho aggiunto un bar Quindi si può anche prendere qualcosa dal bar Ho aggiunto dettagli come Tutti gli oggetti Che sinceramente a me piacciono un sacco Che hanno aggiunto con gli ultimi staff Quindi questa è la dispensa dei vini Qua c'è la cucina dello chef Eccolo qua E cosa importante Ho aggiunto la macchina dei gelati Che in effetti non abbiamo mai visto Davvero E in questo lotto Si possono anche ordinare e mangiare dei gelati Quindi davvero tutto a tema estivo Da questa parte invece ho messo La zona delle riviste Perché se non so se vi è capitato Ci sono anche le riviste nel chiosco E qua c'è invece il bagno Molto molto semplicemente Un bagno abbastanza semplice Da questa parte invece ho messo Qua e là random delle docce Perché Capita che ci siano delle docce Ho messo anche qua una zona barbecue Che Praticamente Ecco qua Percorre tutta la piscina Che è bella Bella grande Al centro della piscina Poi c'è la postazione del DJ Quindi faremo anche Delle feste In questo episodio Potremo ballare Nuotare Fuffarci Prendere dei gelati Prenderci un panino Perché no Qua ho messo una zona Piccola zona relax Qua invece a nuoto Si raggiunge quest'isola Dove c'è la vasca idromassaggio Che è un altro oggetto Che non abbiamo mai visto a fondo In questo episodio Lo vedremo E poi ho aggiunto Dei dettagli Sul fondo della piscina Quindi ho aggiunto le bolle Ho aggiunto Queste decorazioni Ho aggiunto anche Eccoli qua Dei pesci Quaggiù Piccoli piccoli dettagli E ovviamente Mi sono aiutato Con il move object Per mettere le fontane Quando lo uso Lo dico sempre Mentre da questa parte Ci sono altre docce Qua c'è invece Il banco dei gelati C'è già qualcuno Che mangia il gelato Eccolo qua È molto molto semplice Come struttura Al centro C'è lo chef Ma qua in teoria Si prendono i gelati Ecco qua Ce ne sono già alcuni Ed è molto piccolo Questo Perché appunto È il chioschetto Dei gelati Da questa parte Invece ci sono Le altre docce Le altre docce Sono coperte Ora ve le faccio vedere Eccole qua E direi che vi ho fatto vedere Tutto per quanto riguarda il lotto Io spero vi piaccia Volevo davvero qualcosa Di puramente estivo Ora ci concentriamo Sui nostri vecchietti Sono le 7.40 Del mattino Io direi che possiamo Bere qualcosa Perché no? Quindi Chiediamo un tavolo Partiamo già da qui Ho aggiunto dei dettagli Al centro del tavolo Come il menu Il sale Il pepe Il fiore La candela Insomma ho cercato di differenziare Un po' il tutto Qua ci sono altri gelati Qua ci sono i sifoni Per il riscaldamento All'aperto E devo dire che Non mi dispiace Soprattutto di notte Perché c'è una luce Ma è abbastanza soffusa Come luce Non è una luce forte Mentre Per la postazione del DJ Come vedete Ho aggiunto questa struttura Con le bolle Qua ci sono anche Dei vassoi Dove possiamo prenderci Anche un aperitivo Faremo tutto Questo episodio Davvero lo trascorreremo qui In puro relax Tutto estivo Intanto Lui sta chiedendo un tavolo Vediamo un po' Dov'è Ah lo sta chiedendo qui Va bene Ok andiamo Notare quanto Si sono Un po' ingrassati I vecchietti Ah ok perfetto Ci fa accomodare Laggiù al chiosco Va bene Intanto c'è anche Federico Ci dovrebbe essere Anche Noemi E Lisa Ci dovrebbero essere Nel caso le chiamo Sì credo proprio Di doverle invitare Nell'otta attuale Ok lo facciamo Lo facciamo Quindi Ecco qua Invita Nell'otta attuale Ah no Ha preso posto Un tavolo Oh dove sono Ah non lo possiamo fare Quando siamo noi Al tavolo Ok va bene Eccoli qua Intanto i nostri Bei quattro vecchietti Eccoli qui Io direi di ordinare Già qualcosa Vediamo un po' Ordina per il tavolo E guardatelo là Enrico da solo Allora Scelta dello chef E il latte Questa mattina Ma non mi sembra il caso Io prenderei una bevanda Effervescente alla frutta Magari per Serena Perché no Bevanda futuristica Ovviamente non può essere Quella di un alieno Altrimenti Poi abbiamo Tea alette di pollo fritte Questa mi ispira Per Enrico Non so perché Succo di mela frizzante Per Arianna E magari Non so Polchi arancia Per Federico Ok Prendiamo le bibite E aspettiamo Che ce le portino E ci godiamo Un po' Il panorama Tutte le fontane L'acqua In costume Ok Vediamo un po' Intanto Prima di fare danni Se l'oro Ecco Infatti Immaginavo Le va al lavoro Fra tre ore Quindi prendiamoci Anche dei giorni Di vacanza Lui non ha un lavoro Le va fra tre giorni Va benissimo E lui fra tre giorni Ok Perfetto Arriva il cameriere Ho anche cambiato La tenuta dei camerieri Infradito Ovviamente Ma un po' D'eleganza Con un Apollo Sia per i camerieri maschi Che per quelle femmine Mentre per il direttore di sala Ovviamente Anche lui è elegante Ma con una camicia Abbastanza Estiva Se vogliamo L'unica cosa Non ho modificato Il look dello chef Perché in realtà Quello è un po' Diverso Insomma Lo deve comunque tenere E quindi è così Intanto aspettiamo Le bevande Ok Sono arrivate le bibite Io ho anche Assunto un barista Visto che i soldi Non sono un problema E ora ci beviamo I nostri cocktail Eccoli qua Tutti che bevono Intanto dove sta andando Lorenzo Sta andando in bagno Ok no Sta andando a mangiare Un cono gelato Non so Da chi l'abbia preso Va bene Eh contento te Ok arriva la barista E direi dopo che Loro bevono Di farci una bella Nuotata Tutti insieme Perché no Quindi Nuota qui insieme Diciamo che Strutturerò la giornata Proprio come una giornata Di vacanza Quindi loro sono arrivati Qui al mattino Oddio è quasi Mezzogiorno Eh Hanno preso Qualcosa da bere Ora faremo Una bella Bella Nuotata qua Poi magari faremo Delle gare di tuffi Dal trampolino Balleremo La sera Faremo il farò Insomma faremo Un po' tutto Quello che c'è da fare Lui è molto concentrato Ok Ci seguono tutti Eh Piuttosto Ora credo Di poter invitare Anche Ah Non lo possiamo fare Dopo che abbiamo Preso posto Al tavolo Ah Peccato Peccato Vabbè Poco importa Eccoli qua Che nuotano I nostri Bevecchietti Anche tu potresti Ecco qua Venire qui E fare Delle vasche Ah Ci sono Ci sono altri sim Che nuotano Intanto Nuotare Eccoli qui Tutti in acqua Perfetto Ok Loro si divertono Ma devono andare in bagno Piccolo problema Abbiamo solo un bagno Ed era anche già occupato Purtroppo Sì Ma intanto lo puoi usare Anche tu puoi andare in bagno Anche tu puoi andare in bagno E anche tu puoi andare in bagno Dovevano andare tutti in bagno E Devo dire che Purtroppo La soluzione C'è Perché qua come vedete Ho messo tanti di quei cespulli In previsione Di ciò E sarà bellissimo Sarà bellissimo Davvero vedere Questa scena Quindi vediamo un po' Cosa fanno Eccoli qua Che si avvicinano tutti al bagno Fuori uno Fuori due Vabbè abbiamo compagnia Anche lui ha deciso di fare così Sentite In sottofondo Il rumore Della pipì È bellissimo Io davvero Mi commuovo ogni volta Che la mia serie Raggiunge Questo livello Di romanticismo Davvero Davvero tanto Ok lui sta andando Vai anche te in bagno Ok ti abbiamo beccato tutti È inutile che ti guardi Furtivo in giro Vediamo un po' Quali cespulli scelgono Ok fertilizzami questo Per favore Grazie Bellissimo Come rovinare un lotto Tutti i cespulli puzzano Va bene Però intanto Loro recuperano un po' E sono le 13.48 Direi che è proprio ora Di mangiare qualcosa Invece Quindi direi di riprendere Il posto a tavola Ah ok Possiamo sederci solo qui Quindi accomodati Accomodati Lui sarà accomodato qui Accomodati E accomodati In pratica abbiamo richiesto Due tavoli Che aspettiamo che tutti arrivino Si siedono E poi mangiamo qualcosa Ok ordiniamo Per il tavolo Quindi Vediamo un po' Per pranzo Pranzo io prenderei Patatine fritte Per Enrico Perché no Prenderei Piatto di portata Carne e formaggio Serena Prenderei Una bella insalata Invece Per Arianna Tappa compita E hummus Per Lorenzo Perché sembra un piatto Strano Mentre spezzatino di carne Stagionata Per Federico Ok Mangiamo Pranziamo E poi torniamo in acqua E facciamo una bella gara di tuffi Perché no Purtroppo non c'è tantissima gente Pensavo si riempisse un po' di più Però vabbè Proprio importa Ok intanto laggiù la chef lavora E qua arriva il cameriere Ok loro chiacchieravano Intanto è arrivato il cibo Perfetto Quindi direi che possiamo anche mangiare Chiacchierare tutti insieme Ok Sembrano felici Dai Sembra che stia procedendo tutto bene Mangiano Perfetto Vediamo un po' se Arriva qualcun altro Beh c'è lei Altri sim No Purtroppo no Sì invece Oh ce ne sono Ok qualcuno arriva Perfetto Vai li lasciamo mangiare un po' Poi torniamo in piscina Facciamo qualche tuffo E poi andiamo a goderci Un bel idromassaggio Tutti insieme Visto che ormai è pomeriggio E poi immagino di dover fare Un aperitivo qua Dal vassoio Tutti insieme E magari Ballare un po' E fare anche il palò La sera Quando sarà tutto illuminato E quando ci sarà la notte Secondo me è l'ideale Perfetto Le ha preso Il giorno lavorativo I soldi Simone Del giorno lavorativo Qua intanto c'è la fila Per andare in bagno No il bagno è vuoto No il bagno è vuoto Non so perché non ci va Ok Come va Va bene dai Loro hanno sonno Eh quindi io ne approfitterei Ne approfitterei E quindi farei un bel Tuffati per il gruppo Tuffo a bomba Dai niente di così Troppo pericoloso Sperando che loro Ci seguano Sperando che loro Ci seguano Oh ci ha rubato L'idea No Forza Beh vieni qui Anzi vai qui insieme Ok Facciamo così Così vengono tutti Tuffati per il gruppo Tuffa a bomba Ok Quello non si può fare Da lì C'è un'altra postazione Sì perché ne ho messo Eccole qua Ne ho messo davvero tante Quindi vai qui insieme Ok Tuffati per il gruppo Tuffa a bomba Vediamo un po' Sperando vada tutto bene Loro intanto si sono seduti Oh Un bel tuffo Ok Proviamo con Lorenzo Tuffo mortale Salto mortale all'indietro Tanto loro si siedono a bordo piscina Federico ora sta nuotando Loro sono seduti qui La cameriera pulisce La vedo male E infatti A lui non è andata tanto bene Vediamo un po' a lei Ok L'oggetto è in uso Ok Ora lo possiamo fare Tuffo ad angelo Dai Perché no Forse si sta Popolando un po' Ah neanche tanto Però tutti apprezzano i cespugli Eh devo dire Guardatela un po' La nostra serena Tuffati Oh Un bel tuffo anche per lei E l'ultimo è Enrico Tuffo semplice Dai Loro hanno davvero sonno Spruzzata Per aver ricevuto una spruzzata Lui non va mai bene niente Ok Fatti tuffi Direi che ci possiamo anche concedere Tutti Insieme un bel idromassaggio E quindi questa la dovranno raggiungere a nuoto Eccoli qua infatti che arrivano Ci facciamo un bel idromassaggio E poi Sono le 20 Aperitivo E bagliamo un po' Sperando che loro resistano Con i bisogni Eh Ma spero proprio di sì Eccoli qua che arrivano Due Ok Stanno entrando Oh Lui è entrato Lui è entrato Lui è entrata Lui è entrata Perfetto Impostiamo il colore Della luce Su Beh Rosso si vede bene Beh anche blu si vede bene Ok Un bel idromassaggio Rilassante Oh Tutti insieme Ci sta Ci sta E intanto è calata la notte E come vedete Non ci sono tantissime luci Ecco qua Ora si illumina tutto È abbastanza illuminato Ma non troppo Non volevo Caricarlo troppo di luci Intanto Visto che loro sono qua Io direi di già Di prenotare Il DJ all'ultimo grido E anche di Rifornire il vassoio Perché no Ok Lo farà Enrico E ci prendiamo Un bel aperitivo Hai visto che L'idromassaggio L'abbiamo fatto Tutti insieme Forza Vai qui insieme Così almeno Vengono tutti Perfetto Oh Arrivata la DJ All'ultimo grido E capisco perché All'ultimo grido Perché quando uno Vede il suo copricapo Grida In pratica Urla Ok Ok Rifornisci il vassoio Forza E bevete Bevete un po' Tutti Bevi È bella rinfrescante Nelle sere d'estate Ci sta tutto Prendi anche tu E anche tu Bevi Loro sono stanchissimi Ok Ne è rimasto qualcuno Sì Oh Un bel aperitivo Vicino al DJ Ci sta E ora però Ballate Ballo di gruppo Oh Proviamoci Vediamo un po' Che succede Ah Solo loro due Ballano in gruppo No Anche Lorenzo Ok Forza Anche Federico Si unisce Perfetto Eccoli qua E intanto Serena assiste Va bene Ok Arrivano anche i camerieri Forse si vogliono Lanciare anche loro Nella mischia No Oh Peccato Non ce l'ha fatta Enrico Ok Altra cosa Possiamo prenderci un bel gelato Perché no Ma si io mi prenderei un bel gelato Intanto loro cominciano a crollare Prenderei un bel gelato Quindi venite qui Accomodatevi tutti Loro sono stanchissimi Purtroppo Eh Purtroppo è così Ok Eccoli qua Ordinate per il tavolo Ok Dopo cena Dopo aver ballato Un bel gelato Rilassante Ci sta tutto Io qua ho aggiunto Un po' di cose Prendiamo un cono Caffè arabico Raggelante Per Enrico Prendiamo una ciotola Menta infestata Per Lorenzo Perché no Vediamo un po' Prendiamo anche dei coni Prendiamo il gelato Napoletano Per Serena Poi Possiamo prendere Cos'altro Menta e scaglie di cioccolato Per Federico Mentre un'altra ciotola La prendiamo Sorbetto All'arancia No Sorbetto Arcobaleno Per Arianna Così almeno loro Si mangiano il loro bel gelato Tutti insieme E poi credo che Concluderemo il tutto Con un bel falò Qua Spero che loro riescano A non morire di sonno Quindi aspettiamo Che ora arrivi il gelato Ok È arrivato anche il gelato Loro stanno praticamente Morendo Di sonno Questa era di Arianna Questo era di Lorenzo Mentre questo era di Enrico Quindi mangiamoci il gelato Non so se è arrivato Qualcun altro Vediamo un po' Beh no C'è il personale Beh no Qualche sim c'è però Ok Loro non ce la fanno Davvero più Eh Hanno fatto davvero tanto In questa giornata Sono stancati Tantissimo Sono le tre del mattino Siamo qui da ore Beh intanto aspettiamo un po' Li guardiamo Mentre mangiano il gelato Lui intanto Si sente male Va bene Anche lei sta crollando Direi che possiamo Allora accendere In velocità il falò Quindi accendiamo E andiamo qui insieme Anzi facciamo così Vai qui insieme Accendiamo il falò E direi che poi ci fermiamo Con questo episodio Questa giornata Puramente estiva Un po' di relax Per i nostri sim Dai Ora aspettiamo Che arrivino tutti qui Eccoli qua che arrivano Sconsolati Ma arrivano Lì intanto Si è fatta anche La pipì addosso Accendi Vai qui insieme Ok Passiamo del tempo assieme Intanto Cambio il colore del fuoco In blu Eh si Guardateli Crollano Crollano Ah Purtroppo E' così Purtroppo Si E' così Ok Ora dovrebbe Cambiare Ok Passano del tempo Assieme Sporchi E cambia il colore Ok Anche lui E' crollato Beh dai Che dire Io direi che Con questo episodio Ci possiamo fermare qui Abbiamo trascorso Con la famiglia greco Una giornata Puramente estiva Quindi bagni Gelati Patatine fritte Idromassaggio Aperitivo Eccetera Dai abbiamo davvero visto Un bel po' di cose Al momento però Ci fermiamo così E come sempre Invita a mettere un mi piace Se il video vi è piaciuto Iscrivetevi al canale E fammi sapere sotto Nei commenti che ne pensate Vi ringrazio per aver visto il video Fino alla fine Vi do l'appuntamento Al prossimo video E vi dico Ciao a tutti